Ciao, sono Patrizia Salviato, imprenditrice e sono titolare di un centro fitness a Padova, una palestra di circa 500 metri. Prima ancora svolgevo la libera professione di personal trainer e poi ho deciso di materializzare il mio sogno che era quello di avere un'attività imprenditoriale. Perché ho scelto di acquistare il corso Lean? Allora io nel 2018 dopo una convention di Marketing Genius ho capito che avrei dovuto digitalizzare la mia attività, tanto è vero che mi mancavano le capacità digitali per poterlo fare. Guardando il corso Lean, la presentazione, ho pensato che potesse essere una cosa buona intraprendere questo tipo di formazione e occuparmi anche dell'aspetto digitale della mia azienda, perché sentivo che sarebbe stato molto utile digitalizzarla quasi del tutto. E infatti così è stato. Poco dopo della convention del 2018 ho deciso di acquistare il corso Lean e come sono entrata in questo corso, videocorso, che è una cosa veramente pazzesca, è una cosa che mai mi sarei immaginata di trovare. Tra l'altro ho scelto proprio questo corso fatto da Matteo Pittaluga perché io seguivo nei social tutti i movimenti di questa persona e di Marketing Genius in generale e mi ha subito dato un'idea di professionalità, credibilità e anche per il fatto che si parlava e si parla tuttora di cose pratiche da imparare, dove vieni guidato dall'A alla Z allo svolgimento e alla messa in pratica di tutto quello che riguarda l'aspetto digitale. Quindi senza dubbio, senza alcuna ombra di dubbio ho acquistato il corso e mi sono messa a studiarlo. Sono rimasta veramente positivamente colpita da come viene spiegato tutto l'aspetto tecnico e pratico perché passo per passo nel video ho visto proprio tutti i bottoni da cliccare, tutti i passaggi corretti da fare per digitalizzarmi. È un corso straordinario, mai me lo sarei immaginata così completo e così pratico e quindi automaticamente ho deciso di di digitalizzare tutto, di imparare qualsiasi forma di strategia digitale che mi potesse far sviluppare il business ulteriormente. Tra l'altro io mi trovavo anche in una situazione veramente disagiata per il fatto che i fatturati non erano sufficienti e riuscivo a malapena a pagare le spese. Quindi con questo fatto di aver digitalizzato la mia attività ho avuto un aumento del fatturato del 30% circa perché ho cominciato a ricevere nuovi contatti, le persone continuavano a scrivere, a chiedere informazioni, a venire in palestra e automaticamente io riuscivo anche a concludere perché per quanto riguarda l'aspetto vendita già avevo esperienze precedentemente e le ho tuttora ma ho sempre studiato e mi sono sempre formata. Quindi io devo dire che questo corso è veramente unico, è un corso che non ha paragoni con nessun altro corso perché io ho visto anche altre altre presentazioni che non erano assolutamente all'altezza e posso dire per quello che mi riguarda che questo corso mi ha risollevata da una crisi finanziaria molto importante dandomi dei risultati importanti e quindi io ti consiglio di andare all in, di acquistarlo perché sarai guidato praticamente passo dopo passo alla realizzazione del tuo business perché avrai e ti renderai conto che con questo tipo di corso pratico avrai dei risultati inaspettati, cioè definirli risultati direi poco perché è riduttivo perché sinceramente io ho avuto risultati sia a livello anche di immagine perché nella mia città vengo riconosciuta spesso quindi sono riuscita anche oltre a riscontrare un aumento del mio fatturato anche un riscontro a livello di immagine. quindi io ti consiglio di andare all in e di digitalizzare la tua attività e soprattutto di imparare queste tecniche perché tra l'altro adesso in questo momento sono indispensabili. il corso all in è la bibbia dal mio punto di vista del digitale e quindi è una cosa che tutti dovrebbero avere per potersi evolvere ma soprattutto per essere immune alla crisi ed essere al passo con i tempi. Ciao! Sì Grazie a tutti.